L'Abruzzo non è un'enclava a parte. Le sue misure contro il Covid devono modellarsi su quelle indicate a livello nazionale. E così l'ordinanza regionale, emessa qualche giorno fa dal presidente Marsilio, ha dovuto essere ritoccata al punto 8 per la precisione. L'ordinanza riguardava i comuni posti in zona rossa, Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino. Dal giorno dell'ordinanza, venerdì 5 febbraio, i sindaci sono stati subissati dalle richieste di autorizzazione ad entrare e uscire dai rispettivi territori comunali. In particolare a San Buceto, San Giovanni Teatino, grande è stata la confusione sotto il cielo del lavoro, visto che l'area ingloba la più alta concentrazione di centri commerciali, con l'immaginabile andirivieni di dipendenti e clienti. Una confusione subito rimediata da un'ordinanza che ha corretto la precedente, soddisfatto il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Oggi puntuale nella postazione in cui viene effettuato lo screening di Massal, circolo degli anziani di San Giovanni Teatino. La regione ha detto bene, hanno fatto i sindaci a richiederci questi chiarimenti, hanno ritirato l'ordinanza, ne hanno fatto una nuova, dove è chiaro adesso che dalle zone nostre si entra e si esce per lavoro senza certificazione, ma con la propria autocertificazione, così come dice il DPC. Senza autorizzazione del sindaco, come era sembrato di capire, ma con l'autocertificazione propria. Certo, autocertificando direttamente loro i motivi per cui vanno a lavorare dove e come. Invece oggi siamo di nuovo alle prese con lo screening, con i tamponi rapidi, con i test rapidi e anche oggi sono emersi dei positivi qui a San Giovanni. Sì, ne abbiamo fatti per il momento 60, sono usciti già 4 positivi, 3 cittadini di San Giovanni Teatino, uno fuori comune ma che lavora a San Giovanni Teatino. Invito la cittadinanza a venire a fare questi tamponi perché è molto utile isolare gli asintomatici e questo chiaramente è la prima strada per poter uscire fuori di questo problema. Ricordo che ad oggi abbiamo 197 positivi su San Giovanni Teatino, abbiamo appena ricevuto la comunicazione della ASL, quindi siamo attenzionati e speriamo di uscire al più presto da questa situazione.